Si no la casa è veidà, ma cos'è in mano d'ora Baila, 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 baila E' da Roma, la chitarra, e non si e se canta E noneti, noni, se canta E noni, se canta E' da Roma, la chitarra, e non se volete Ragazzi, il cuirino è una cosa che deve saltare Con Reco Correa si palla tutto, si palla tutto Sì 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 Garadas Sì Grazie per la visione!